ragazzi adesso vi rileverò tutti e tre punti esatti dove parlare che sarebbero meridiana tazza di caffè è una testa di metallo quindi ragazzi che siamo subito con la meridiana ragazzi questa è la zona delle meridiane bisogna ballare esattamente qui se funziona il ballo no ragazzi si è pagato ma va bene dettagli ragazzi bisogna ballare qui per la meridiana passiamo subito alla tazzina di caffè ragazzi questa è la tazzina di caffè che si trova esattamente qui a sprofondo stantio dove stavano i vecchi magazzini eccoci qua ragazzi come ben potete vedere bisogna ballare qui sopra andiamo sulla testa del gigante così completeremo anche ragazzi questa missione ragazzi questa è la seconda fase la scusatemi l'ultima fase in cui dobbiamo ballare vicino al cagnolino di metallo che si trova esattamente qui a crocevie lo sta eccolo qua qui sopra ragazzi ragazzi anche questa missione è stata completata con successo e quindi noi ci vediamo al prossimo video ciao